E' stato un concerto davvero incandescente quello che c'è stato ieri 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma per quanto riguarda i Maneskin, un successo davvero incredibile e pazzesco, 70.000 e poco più le presenze i tanti fan giunti da ogni parte d'Italia per apprezzare la bravo di questa band romana. Ospite d'eccellenza della serata di ieri 9 luglio 2022, la bellissima e sempre singe sexy Angelina Jolie la quale è stata davvero la super ospite, il momento più ebrico è stato quello quando il buon Damiano di Maneskin ha per l'appunto urlato dal parco Fuck Putin, fu Putin. Le persone erano letteralmente in delirio, la presenza anche di Virgina Raggi non è mancata tanto che la stessa raggi si è avuto da fare una foto con i Maneskin, la banda come scusatevi nella band romana per eccellenza, pensate che ha tenuto incollate le persone per quasi 3 ore di tempo proprio in quello di Roma, la capitale d'Italia, al Circo Massimo. Bene, complimenti dunque a tutti, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate alle 23.45 sono arrivati i saluti conclusivi per un concerto che è arrivato quasi 3 ore di tempo, 180 minuti. Tagliato, un oratore italiano, tutto, ciao a tutti.